Ecco Axel che è ritornato nella casa dove nacque, dopo tantissimo tempo, non sappiamo se si rende appunto ma io credo di no, guardate che splendore che è diventato, guardate, è proprio bello, forse avrà voglia di farla pipì, molli? Dov'è Axel? Alla prossima vuoi un po' di pappa? è Axel cosa c'è? cosa c'è?